VIVA LA RASSA Amici sportivi di Youtube, ben ritrovati dal vostro Goldberg in un nuovo episodio di WWE Supercard Si è appena concluso l'evento, andiamo a vedere le grandi novità Allora, intanto ci sarà un aggiornamento, penso che alle 9, finirà verso le 1.30 alle 2 Questo video spero di caricarlo il prima possibile, spero entro le 2 Perché oggi sono fuori tutta la giornata, quindi non ho molto tempo Si è concluso l'evento, abbiamo preso ovviamente la carta Con un po' di difficoltà, diciamo che abbiamo finito l'evento a 40, mezz'ora dalla fine Allora, ringrazio tutta la squadra, ho fatto il record, dei record, dei record, dei record Signori, non me l'aspettavo 800 punti, un risultato, non lo so, pazzesco Ringrazio tutta la squadra, ovviamente ci deve stare sempre una zecca nel team Ringrazio tutto il team, però signori mi è arrivata ieri la notizia che presto sarò nel team di Randy Quindi tra 1 ora e 12 praticamente quando finirà l'evento Dopo l'aggiornamento andrò nel team di Randy e faremo una reunion con anche Antonio Il grande Antonio, quindi io, Antonio e Randy staremo nuovamente nello stesso team Questa volta non è per aiutarci perché l'altra volta era venuto per aiutarci Questa volta è per sempre, signori Durante questo evento abbiamo trovato un'altra Vrestermina 33 Però questa volta non è quella che vi aspettavate voi Lui nell'evento abbiamo trovato un supporto Sono veramente contento No, in realtà no, in realtà i supporti resetano e basta Quindi ce l'hanno impiantato nel sedere 7300 incontri La superstar prossima sta a 9000 Ok, quindi niente Queste saranno le migliori carte, vediamo un po' nessuno Ah, vi devo far vedere Praticamente ho quasi finito ad allenare Il Randy Sta a 32 di forza e il resto 40 Quindi questo qua è allenato al massimo Questo ci manca poco, quindi stiamo per fare la pro Di qua 40-40-40 Perfetto Al 100% Di qua 40-40-37-28 Ok, diciamo ci siamo anche di qua Dovrei fare anche lui ma penso di foldarlo Nel senso ora, lei mi serve perché è Divas, ok Lui mi serve perché è appunto Randy Orton Però poi per il resto penso di non farlo Perché comunque adesso ho anche La nuova Vrestermina 33 Stanno per mettere un nuovo evento Quindi penso che le Elite Pro le entro a mano a mano a scartare Ora sto facendo Randy Orton perché comunque Sono arrivato alla fine Ho finito ad allenare lui Veramente tanta roba 32.29 Cioè c'ha dei valori assurdi In confronto a lui veramente c'ha dei valori assurdi Poi che dire Niente, vi devo sicuramente far vedere i punti che ho fatto in quell'evento Andiamo a vedere Nel Road to Glory Siamo Elite++ Con Ember Moon Pro E Brock Lesnar Quando lo alleneremo al massimo L'altra Vm33 Dovremmo salire ancora un altro po' Nel Ring Domination Sempre Vm33+, a metà Ok in attesa della rete Questo già sta cominciando a crashare Iscrivetevi, commentate, condividete Se non siete ancora iscritti lasciate likes E noi ci vediamo al prossimo episodio ragazzi E noi ci vediamo al prossimo episodio E noi ci vediamo al prossimo episodio E noi ci vediamo alla prossimo episodio